Musica Scusa a tutti Allianz ho un occhio fatto uno, scusatemi intanto divertite anche la differenza perché adesso devo andare a fare un tutorial anche sull'altro occhio perché così almeno ho dei video siccome la domenica per domani avrei da fare ma non me ne ho distruggere e così siccome ho una settimana un po' impegnata e così ho già dei trucchi fatti e li carico intanto voi non sentite la mia mancanza e niente questo qua è un trucco che l'ho pensato per una seratina magari insieme agli amici così o col fidanzato troppo soft l'unica cosa che magari è un po' appariscente è il rosa no? perché non si vede nemmeno tanto è questo eyeliner questa riga d'eyeliner che però è abbastanza sottile per i miei gusti non so per voi che potete anche semplicemente fare una sfumatura con un ombretto nero o quello che volete vedete anche un eyeliner marrone anche se marrone 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 su marrone non penso ci sta molto bene comunque decidete voi e l'ho spaccato anche un po' le ciglia sotto insomma scusatemi di qua ma mi lacrimava l'occhio e basta non impienete da dire quindi è durato un po' il tutorial perché sapete che io parlo eccetera comunque è un trucco abbastanza veloce e le labbra sono nude è un rosa ma è un rosa molto nude della Kikol l'undici questo rosa qua ecco qua niente io spero che vi piaccia vi mando un grosso bacione e alla prossima ciao ok scusatemi qua un po' di rossori ma gli elastici in bocca scusate e adesso me li tolgo e prima di iniziare il trucco devo andare a lavare le mani perché ho fatto giocare slash vorrei dire che mi scusate questi rossori ma prima mi sono schiacciato un po' di punti neri e andato fare questo ok mi sono tolta i gli elastici davanti ho ancora i due laterali e quello dietro sì sono pieno di elastici perché tra poco ve lo tolgo yay ok iniziamo applicando un primer questo qua è quello di Zoeva ok e di solito questo qua adesso io lo uso così ma adesso vabbè che viene caldo è un conto ma di solito d'inverno lo lascio poco 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 sul sì sul termo lo applico sotto la palpebra e un pelo sotto anche se non andremo a fare grandi sommature sotto adesso vado a prendere il pigmento di Kiko un altro prodotto di questo no ce la faremo ok questo qua è lo 01 ma comunque è un ombretto nude dal vostro colore di carnagione magari e lo vado a prendere poco poco e lo applico e lo applico su tutta la palpebra mobile poi adesso farmi vedere il disegnino ok al centro vado a prendere un rosa io uso la mia palette 96 colori di Zoeva e scelgo il rosa la tonalità di rosa che piace a me ne mischio due mischio questo qua freddo non ne faccio mischio questo qua un po' più caldo con questo qua che è un po' più freddo e poi ci aggiungo questo che è più sul salmone quindi faccio un mix e lo applico al centro della palpebra più o meno così se non scrive molto andatelo a bagnare allora prendo un po' e prendo la mia acqua termale che non so dove si è finita ok qua sto riorganizzando la postazione make up mi sto appartendo dei pezzi ok e ce la riapplico sopra vado a prendere il pennello asciutto e lo sfumo verso l'interno così da ammagamare tutto sempre con lo stesso pennellino possiamo usare sempre lo stesso basta togliere un po' di rosa vado a prendere un marrone questo qua ormai mi è quasi finito perché lo uso sempre anche per il contouring bisogna che trovi un sostituto più fredda possibile e lo vado a mettere su tutta la palpebra su tutto il resto della palpebra c'è questo angolino qua per me ok deve essere un trucco molto soft anche se qua con rosa tanto dopo posso andare tutto a sfumare e perderà intensità quindi lo applico qua lo metto verso l'interno ok adesso prendo questo prugna qua sì un color prugna anche se è illiterato e lo vado ad applicare tra i due colori tra il rosa e il marrone e lo sfumo facendo dei trattettini come dei trattini così così li sumo insieme ok ok così ci metto sopra del marrone ops così che prenda un po' il colore e adesso e adesso prima di andare a fare tutte le sfumature con il marrone che restano vado a fare le mie sopracciglia e sotto ci metto vicino alla piega un po' di correttore uso il full coverage di Kiko che mi sta finendo e poi dopo lo opacizzo con il pigmento che abbiamo usato di Kiko color nude e ve lo vi faccio vedere adesso che abbiamo opacizzato tutto andiamo a fare un muore un colpo di luce con il Mystic Lemon dell'Essence che io devo tornare dall'Essence a prendere un altro non so neanche se c'è ancora perché vedete c'è un buco enorme perché lo uso in quasi tutti i miei tutorial con un fluffy brush ne vado a prendere un po' lo scosso e lo vado ad applicare qua sopra ma è solamente per fare proprio un tocco di luce poco evidente non deve essere molto evidente e questo colore è perfetto perché poi vedete che è sul giallognolo e quindi insomma siccome ha la pelle un po' giallognola cioè il mio sottotono è giallo quindi è perfetto ecco qua adesso mamma ma ma c'è che mi ringhia come? ah ho fatto due procedimenti senza dirvelo sorry scusate non pensavo non stesse registrando comunque con un pennello a penna vi racconto con un pennello a penna ah per le sopracciglia ho usato il set della Catrice non a numero c'è solamente questo ho praticamente messo con un pennello a penna l'Omega di MAC nella piega dell'occhio così e poi dopo con il fluffy brush sporcato sempre con un po' di Omega sono andata praticamente a sommare così verso l'esterno e anche l'interno e poi dopo con un dito sono andata a prendere un po' di Lemony e di Lemonade sì il Mixed Lemon e l'ho andata a mettere un po' qua e l'ho risumato e l'ho portata anche un po' in qua in giù e con un ditino ho iniziato a sommare il rosa così che magari si vedesse un po' meno e infatti è così perché si è sommato bene con il marrone all'esterno qui sembra che sia una patacca spero che nelle foto almeno che ho messo all'inizio non sembri così speriamo che la fotocamera mi assista adesso riga d'eyeliner facciamola sottile io uso della linea Sun Club mi sembra che sia sì dell'Essence quello waterproof che non è waterproof però ok si sta leggermente seccando vediamo se riesco a farlo se no uso l'eyeliner in gel ok più o meno riesco a farlo quindi che lo vado a ricomprare non so se state vedendo in questo momento o no ok va bene adesso vado a riempire gli spazzetti bianchi così anche qua vicino ok a me la riga piace così quindi per una persona a persona per me che mi faccio delle righe grandi è sottile e poi sperando che l'occhio mi assista perché mi sta lacrimando e perché me lo so struccato da poco vado a prendere una matita e vado praticamente solo questa parte non me la fa fare perché è bagnata dalle lacrimucce però questa parte qua vado un po' a sporcare le ciglia assumo con il dito ok e non ce la farò mai e adesso vado a mettere il correttore la faccio alla mia base e poi dopo metto il mascara dopo vi faccio vedere l'ultimo tocco per finire gli occhi è andare con un mignolino a mettere dell'illuminante qua davanti poi andare a prendere il mascara io uso l'extreme della essence poi vi mettete il top coat allungante io adesso oggi non me lo metto perché tanto sto in casa devo fare un altro tutorial quindi non mi cambia niente questo qua e poi il full slash effect fusion sotto voi direte ma perché ne metti due diversi vedo che così divido un po' le ciglia perché quello lì ha aspettate lo scovodino troppo grande per metterlo anche sotto e quindi evito adesso per le guance devo trovare un pennello per le guance ok prendo un po' di terra uso quella da essence e le metto un po' le guance sotto a te ma sei tu che fai sto casino mamma eh ma sei tu sì ti volevo portare la roba stirata non stai a far video stai a far però per venire andate se vede poi sotto trovato metto l'undici di Kiko che è questa rosa qua aspettate eh eh ha scazzato cioè adesso vado davanti alla polsa questo rosa qua undici e non trovo più lipgloss qua ci metto un lipgloss trasparente e niente il trucco è finito spero che vi piaccia vi mando un'altra sociale e alla prossima ciao